Ok signori, dobbiamo collaborare Ragazzi, non posso muovermi No, devi muoverti con le freccette Ah, con VWAS No, con VWAS Dobbiamo collaborare per superare i livelli Mi l'hai detto ovviamente è facile Adesso dobbiamo andare Facciamo una scaletta In modo tale che Vai fino a te Vai, salta giù Belusi, dove cazzo? Vai, porco Dio Vai al bordo Belusi, al bordo No, tu non puoi saltare Capisci, devi andare Oh, lo vedi, perfetto Chiaro, chiaro Dobbiamo stare tutti e quattro sopra Dio cane, Giulio Ci avete per forza la mamma Non possiamo salire più Belusi Ma sei un incoglionito Vai, tutti a destra Andiamo Dio, Dio Come si va Verso il dentro Dobbiamo metterci in fila No, no, non per forza Attenzione qui ragazzi Attenzione Andiamo Ok Ok, andare su Vai Vai Vai, apri Giulio, apri Ok, signori No Perché Belusi se suicida Oh, mi sono suicidato Ok, vado su E vi avro Sono vicino, amore No Porco Dio Così Ole A posto Vedi che è facile Aprite Eh, non so Non salta Non mi salta Non mi salta Aiutatevi Mi state strozzando Mettiamoci in ordine Con le corde No ragazzi Chi è questo Penso di merda No, sono io Dio Aiuto Le mie braccia Oh Cil, cil Sincronizzati Ragazzi Ok Ma sono un cozzo Spingi, spingi Dio merda Perfetto Ma che è sta merda Fire 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 Dio merda Fire No Belusi 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 Mi raccomando È timing Belù No 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 Ma sei un coglione No Ragazzi Fire Che pezzo di merda Belù mi raccomando In testa preciso No No Belusi In la cilla Va bene Va bene Che ciasso fai Fatta una cazzata Fatta una cazzata Fatta una cazzata Devi saltare Bravo Belusi Bravo Belusi Justo per dire una cosa Io ho tratto I blocchi iniziali Perché devono essere lì Perfetto Vai Vai Ragazzi Ma cosa stiamo facendo Che è che è No Belusi Belusi Madonna Belusi Madonna Porco di Dio Belusi Dio Cane Belusi Belusi No Belusi Belusi Sei un figlio Di una grandissima Troia Oh Oh No Vabbè Ma Ti prego Non muovete le levette Si Si poi in cinque guai dentro dentro i sali mi chiamarete di cazzo sei un muratore non ci credo dai no ragazzi avete dovete parlare lanciati 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 questa missione da solo il re il re ma vabbè dai sto facendo tutto ragazzi vi prego sono il re dai poco da fare sono il re dai poco da fare ah ok uno può spusciare solo la sua questo deve fare fire belusi dove cazzo il dio vai aspetta non attaccarlo belusi attenzione lo metto preciso guarda così ma dove luci dai vado prima di tutti prima di tutti dai 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 cazzo dai però marzo qua sei stronzo no sono io stronzo no sono io stronzo dai 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 porco di dio non me salite in testa non cambia niente non puoi saltare dopo quello cambia ho la chiave la chiave basta bello spettante no eh però vedi feteci si è un coglione e tu non la spingi ma riuscite a spettare la visuale se tu non la spingi quella cosa non succede berusi porco dio ti full boxo il tumore di o cane vai giulio vai ti prego muoviti giulio madonna mia madonna mia deve grazioni 11 far con grazioni 13 giulio giulio hai 27 anni pure tu che cazzo salti state lì bambini di merda io me ne vado a fare il culo mannaggia porco di dio ragazzi quando arriva tutta sol 3 2 1 vai tutto a destra meno male va quando ci sono io la base no fire 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 porco dio ti giuro ti espello da ovunque non giochi più nella mia live non l'età io non ho l'età che fai 3 2 1 porco di dio ok calma no zi non l'ho preso zi non l'ho preso no non l'hai preso l'hai preso a due piedi anche con uno a due piedi hai fatto un saltello come quando vedi le strisce pedonali e fai non devo prendere i neri prendo i bianchi sulle strisce pedonali non l'ho preso qua dobbiamo salirci in testa ragazzi mi raccomando vado io vado io chi è che l'ha preso pelusi me l'ho preso io no no eri l'unico che ha fatto pelusi porco dio mi voglio fare un taglio nella guancia a prendere l'ids e sputarti in bocca oh adesso cosa l'ho vado io vado io vado io vado io vado io giulio vai tu vai tu tutto fai tutto fai tutto arriva alla fine bravo ma lo faccio io l'ultimo no troppe responsabilità madonna pelusi madonna no 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 vabbè c'è il mio camera ragazzi aiutati aiuto non ce la faccio più vai pelusi vai mi prendo io questa responsabilità dio merda dio dio porco aiuto ma che cazzo fai festo mi ha furbiato no l'avevo scappata dai ragazzi l'avevo sbombata io non lo dovete far svegliare dio cane e come si fa piano piano bisogna muoverci piano bisogna muoverci piano 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 marzone 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 l'accendino ti brucia i peli del culo no no stai ok ora salto correte cazzo marzone come si è cagato sotto no vabbè fire 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 guarda guarda non sto coglione giallo no sono io il coglione giallo non posso sbagliare tu io sto fermo basta mi metterò quel cazzo belusi c'è il primo cazzo porco dio perdete il livello se vi piace non lo fate sempre ultimo ragazzi ragazzi che problemi avete fermi fermi apri niente fire fire con la chiave grazie a dio grazie a me non grazie a nessuno no uno lo deve guardare dicono regà muoviti quanto vuoi io continuo a guardare si ok guardalo marzone arriva da sopra guardalo pezzo di merda li sto guardando qua bisogna guardare marzone non posso saltare con te marzone eh io qua ragazzi il primo deve saltare in avanti e guardarlo stai lì coglione di merda ok ah cazzo fai vado su e lo guardo ok lo guardo fila guarda come cazzo si prende la devi prendere il fantasma guarda di là guarda di là ok vado avanti io lo guardo lo guardo lo guardo oh ok qualcuno va davanti qualcuno va davanti oddio guarda 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 lo fire ok vai vai bastate tutti guarda la senti vai via di dentro ma d'ho scopato eh l'avevo capito eh che doveva prendere il fantasma eh questa è roba vostra ragazzi l'awareness non la perdete mai dai ok vado io oh stai fermo oh dovete gestirvi solo voi due kill stai fermo porco dio eh io so che tanto può prendere il fantasma eh lo sapevo lo sapevo cioè lo sapevo non non porco dio dai ti dai ti no no vado io vado io vado io oh oddio non lo guardo una volta eh deve essere full deve essere fermi ma zo barrio alto come zona per andare a fagiana ok ok c'è ma penso ok ma se non ti sparo ci lo guarda è così fretta di andare guarda è tanto qua alla fine grazie per i cento vedete madonna ragazzi bravissimi più lì c'è grazie l'abbè venuto dovete prendere qua dobbiamo saltarlo tutti dobbiamo saltarlo tutti ragazzi il primo ce la fa ma il primo che problemi ha non è il primo sono tutti gli altri dopo no no continua a prenderlo guarda l'hai preso tre volte dai ma va vai questa è la veloce però è più veloce è più veloce ok madonna madonna bravissimi chiave 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 vabbè siamo tutti col pigiamino il pigiamino il pigiamino devi prenderlo in testa capito bisogna metterci vabbè questo è facile questo appena c'è rimani fermo tipo là va bene eh ma non arriva in fondo bisogna spostarsi vabbè forse uno la porta forse devi saltare no dovete prenderli in mezzo in due aspetta ho un'idea si vedi devi saltare ok se ce lo portiamo al posto di saltare no mettetevi lì mettetevi lì no Fai il porco dio mettiti lì mi viene incontro ma sei rincoglionito Fai il Fai tu lo marzo devi stare a sinistra io cane eccolo il re grazie per i 18 Zebi grazie per i 7 mi levola il cazzo è stato bello però come mai uno è molto carino oggettivamente è carino certo abbiamo bestemmiato però è sempre un bestemmiare nel divertimento è bello nel ridere bello bello ma non era ironico no però cazzo due che facciamo poi ci ritroviamo un'altra volta per fare solo due lo facciamo adesso due abbiamo due da fare allora prossimamente